Siamo qui per presentare una mostra di creazioni d'arte, le voglio chiamare così, sono delle foto e delle penne artistiche create da due ragazzi, Letizia Morini che poi vi presenteremo e Manuel De Marc. La mostra è stata organizzata dall'associazione Orizzonte Giovili che rappresento ed è un'associazione che mira, tra le altre attività, a promuovere l'inclusione e a diffondere quelle che sono le immense abilità e che alcune persone hanno e che rimangono nascoste. Quindi con questa mostra noi vogliamo dare risalto a ciò che questi ragazzi davvero hanno dentro ed esprimono con le loro creazioni. Sono Morini Maria Letizia, ho 22 anni, ho passato le foto e sono qui per farceli conoscere le foto. Sono questi e nessuno non ha insegnato nessuno. E dopo avevo 10 anni e dopo ho insegnato mia sorella e dopo ho insegnato mio bambino con la marca fotografica Canon. Che è stato il regalo più bello che hai avuto, credo, vero? Vi presento Manuel che è l'artefice di queste opere d'arte, queste penne artistiche. È stato premiato anche dal Presidente della Repubblica nel 2014, è stato nominato al Fiere. Queste sono le sue opere. Che cosa ci puoi dire? Che cosa ti piace delle tue penne? A me mi piacciono tutte le penne. E lui ne fa tantissime. Quest'anno, no, questi giorni è arrivata la 1500esima, che è quella verde, ed è anche questa un'opera d'arte. È nata perché io per fare le penne io sono bravo. È nata quando io ero piccolo. Le vende in tutto il mondo, le spedisce ovunque. Adesso vi presento Ilaria, che è la regina di Giovilli, dell'associazione che abbiamo promosso. Colgo l'occasione anche per fare un appello. Per mandare avanti attività di questo genere serve la collaborazione di tante persone. E noi abbiamo pensato di creare una banca del tempo, cioè persone che possono scambiarsi tra loro delle attività, facendo per gli altri quello che si ama fare e ricevendo quello che più ci serve. Quindi abbiamo creato questa banca del tempo. Vi invitiamo a venirci a conoscere per capire come funziona e anche a collaborare. Perché attività come queste richiedono tante energie, tanta fatica e quindi più si è e più si riesce a creare solidarietà. Vi voglio ricordare di essere presenti martedì, 3 dicembre, ore 21, Teatro Sanzio, ingresso libero. Perché abbiamo Sei tu che vali, esibizioni di artisti particolarmente abili. Alcuni sono qui con me. Abbiamo Manuel De Marc, che fa delle penne strepitose. Abbiamo Ilaria Fabri, che ballerà con la sua carissima amica Chiara Brunetti. Abbiamo qui presente anche una fotografa di eccezione, che è Letizia. Ilaria, vuoi dire qualcosa per lo spettacolo del 3? Vi aspettiamo alla mostra e ci vediamo al teatro il 3. Sì, sì, dicembre sarà uno spettacolo bellissimo. Con loro? Aspetta. Perché altrimenti piangono tutti? Con loro? Ricordiamo Ivan Cottini, che ballerà insieme a Bianca Maria Berardi, Manuel Anagalli, che ballerà alla pizzica. Abbiamo un gruppo integrato di danza di Riccione. Abbiamo Giorgia Righi, che ha scritto un libro bellissimo, che è Vivere Volando. Abbiamo tutto il gruppo del Centro Francesca, che ha vinto il torneo integrato di volley e che sarà premiato lì. Abbiamo i ragazzi della Casa di Django. La Magia, la Maga Gigli. È presente la Maga Gigli con uno spettacolo bellissimo. Grazie. Tutti insieme? 3 dicembre, ore 21, vi aspettiamo. Sì.